è che l'avevo tirato a me? Degli che pussano in realtà rivali? torte? ma... come voglia? sono ucciti si ha detto che siamo un mangia cazzo ma signor ci sono affesi eh? perché gli ho detto alla base che sono nati nella Spagna per fortuna è una disgrazia bisogna saperci convivere è un po' è un po' prova a salire o meglio ha tirato l'attacco grappolo così fa casino un tiro fortunato non c'è nessuno 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 no c'è nessuno non c'è nessuno non vedo movimenti c'è gente c'è gente vai piano La piano Sto lavati all'interno? Se vuoi vieni retrosi Molto bene Mañana, se non levantano temprano Noi vanno a camminare alla, vale? Quanti? No, due, due, due Sto saliste presto al cavallo Sto avendo la manana Se entiende? Todo esto es una manana Hasta las 2 de la tarde o una Creo que se va abierto No Grandissimo Grandissimo C'è una macchina porco zio Così mi piace Sono entrati Sono entrati Serve seringhietta, una seringhietta Se ti serve la vita Provo a salire Comunque ce n'è ancora una Perché se era in vita ce n'è ancora No, no, no No, no, no Oh, silenzio c'è un po' Ci abbiamo potuto comprare cazzo e munizioni? No No Oddio Ma prendilo, prendilo Perché con quelli li attacchi Attacchi Forca puttana Non ci sono soldi Questi hanno abbandonato Ci sono cagate No 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 Due armi Ci fa veramente paura E' preso? Si Ho preso gli equipi Quanto ha scolto la cassa di munizioni? Quattro e mezzo Eh vado qua vecchio Però giù Qua Allora Hanno luttato da poco questa Eh Vuoi prenderlo d'auto? Ti copro quel bombardamento se vuoi No C'è uno studio Il segno è confermato Distruggete tutto Qua Da me Da me dove è? Due 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 Vabbè l'ho ammazzato comunque uno Uno me lo son portato perché Bellissima